video misterioso ragazzi registrato in argentina in periferia potete vedere ragazzi questo ufo navicella non lo so ragazzi questo oggetto non identificato che sembra toccare con questa non lo so come raggio non lo so come lo devo chiamare ragazzi quindi sta cercando o sta toccando qualcosa con questo raggio fulmine come lo vogliamo chiamare ragazzi quindi adesso qua l'ho fatto più a rallentatore perché sinceramente si muovevano troppo gli occhi quindi anche se lo so ragazzi il video non è che si vede chiaro chiaro però ragazzi non è che non si vede proprio comunque il video resta misterioso quindi ripeto registrato in argentina in periferia questo ufo disco che con questo suo raggio non so cosa stia facendo come sempre vi invito a lasciare il vostro commento e e a dirmi ragazzi secondo voi che sta facendo ciao a tutti al prossimo video e al prossimo mistero ciao a tutti